Aggrapparsi ad un granello di sabbia è possibile? Come si fa ad aggrapparsi alla sabbia? Io quando prendo la sabbia tra le mani, la sabbia scivola via. Allora cosa ci vuol dire questa immagine in cui veramente oggi delle persone si aggrappano a dei granelli di sabbia? Ora ascoltiamolo da un detenuto anonimo, la cui testimonianza e il cui testo troviamo nel libro di Fra Emiliano Antenucci. Gli ultimi saranno i primi. Un detenuto si chiede chi è il detenuto? È una persona che in un istante perde ogni diretto, ogni dignità, ogni speranza, ogni certezza. La vita esterna da libero viene pian piano cancellata e con gli anni dimenticata completamente. La nuova vita è fatta di lunghi corridoi, divisi quasi sempre tristi e sguardi persi nel vuoto. E' vero tutto ciò, per chi frequenta le carceri queste parole ti riportano in quei luoghi e non puoi che non condividere. Non puoi condividere, semplicemente condividere queste cose. Campanelli suonano, continua questo detenuto, ma non sono i campanelli di festa o di gioia. Al contrario, sono quasi sempre seguiti da strilli e urla che spaccano l'anima e bucano la coscienza. Altro che alberghi a cinque stelle, come spesso noi diciamo, quando parliamo di detenuti che vengono portati nelle carceri, guardate che anche se fossero alberghi a cinque stelle, ma sarebbero sempre luoghi in cui strilli e urla spaccano l'anima e bucano la coscienza. Basta che il tuo nome venga nominato per sentirsi per un istante di nuovo umani. E poco importa se a chiamarti è una guardia, un detenuto, un educatore, l'importante è sentire il proprio nome, risuonare in quel lungo, lunghissimo corridoio consumato in decenni di passeggiate. E alla fine, basta una parola, conclude questo anonimo detenuto, una frase, uno sguardo, un cenno detto o non detto, perché ci si aggrappi adesso come fosse un'enorme montagna, ma poi alla fine ci si accorge che era tutto e solo un granello di sabbia. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Ciao a tutti!